La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Feltre e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioni e vacanze di Natale. Buongiorno, quando si dice l'uomo giusto al momento giusto e al posto giusto che è lo speciale di fatti e misfatti, non sono io l'uomo giusto, l'uomo giusto è Emilio Carelli, Emilio Carelli è mio ospite perché è candidato a Roma, Roma-Fiumicino, Roma-Fiumicino-Ostia perché così gli elettori sanno con precisione di che cosa stiamo parlando, è candidato per il Movimento 5 Stelle e io l'ho chiamato perché è mio dovere ascoltare le ragioni dei candidati, è mio piacere ascoltare Emilio Carelli perché è una persona con cui ho lavorato tanti anni, ricorderete ne ho parlato anche durante l'intervista con Luigi Di Maio e con Emilio, abbiamo lavorato insieme per tanto tempo, lui ha lavorato anche a Tg.com, anzi è stato se non so se è il secondo direttore Tg.com, comunque prima di me, e poi ha fatto Sky Tg24 e poi ha deciso, non è il primo giornalista che si candida, però poi ha deciso di lasciare una poltrona per imbarcarsi in questa avventura, perché sapete che tanti dicono che vanno in politica per le poltroni, è meglio la poltrona, sono tanti anni che se l'è conquistata, meritata, sudata e tutto, l'ha lasciata, adesso vuole andare in un altro posto, vuole andare in Parlamento, vuole fare la politica condividendo alcuni obiettivi o gli obiettivi del Movimento 5 Stelle, perché è l'uomo giusto, era molto tempo che lo inseguivo, che lo volevo comunque intervistare, per me è una curiosità, lo vedrete, gli chiederò tante cose della sua vita passata e attuale, però è l'uomo giusto, perché non si parla d'altro sui giornali, Emilio, non si parla che dei 5 Stelle... No, sei troppo gentile con questa tua presentazione, ci diamo da tu perché siamo colleghi, veramente grazie per questa presentazione. Siamo colleghi e sappiamo bene che alla fine abbiamo fatto tante cose assieme, e adesso però tu mi rispondi, ma a me no, a me nemmeno te lo chiederei per telefono, ma spieghi a tutti quelli che ci ascoltano questa storia dei rimborsi, dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, dal punto di vista tuo, perché non si parla d'altro sui giornali. Allora, io ti ringrazio dell'opportunità, innanzitutto io chiamerei le cose col proprio nome, cioè non si tratta di rimborsi ma di donazioni, queste sono state donazioni volontarie che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno effettuato durante tutto il loro mandato, durante tutti i 5 anni. Allora, cos'è successo? che negli ultimi mesi si è scoperto che qualcuno di questi parlamentari non ha effettuato queste donazioni volontarie di una parte della loro indennità parlamentare, di una parte dei rimborsi spese che loro avevano. Allora, sicuramente è un fatto da condannare, è un fatto che non doveva accadere, però è un fatto ristretto a un piccolo numero di persone, chi dice 5, chi dice 10, sono in corso degli accertamenti. Sicuramente il Movimento ha preso una posizione molto dura, di mai ho detto fuori le mele marce, i furbi non li vogliamo tra di noi, quindi queste persone verranno, per così dire, messe alla porta, però bisogna precisare che non è stato rubato niente, che non è stato fatto nessun reato, che non c'è in corso nessuna inchiesta della magistratura, perché ripeto si tratta di donazioni volontarie. Però cos'è successo? Naturalmente da alcuni giorni tutti i giornali e i telegiornali aprono con questa notizia come se fosse il problema più importante dell'Italia, ma noi sappiamo che l'Italia ha ben altri problemi, che è un gruppo di 5-10 parlamentari che si sono rifiutati di fare una donazione di una parte del loro stipendio, delle loro rimborsi spese, al Ministero dell'Economia in un fondo destinato al microcredito. Però io penso sempre che quando c'è una difficoltà, almeno anche nella mia vita privata, io ho sempre pensato come posso trasformare questa difficoltà in una magnifica occasione per me. Ebbene la magnifica occasione per il Movimento 5 Stelle è quella poi di far sapere agli italiani che in questi cinque anni i parlamentari 5 Stelle hanno unici, hanno rimborsato, hanno restituito, hanno donato a questo fondo per il microcredito ben oltre 23 milioni di euro. Certo, potevano essere 24 e sarebbe stato ancora meglio, però io penso che questa sia una cifra importante che ha permesso tra l'altro la nascita di 7 mila nuove piccole imprese. Sì, qui non è neppure il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, qui c'è una damigiana piena e un bicchierino vuoto, perché siamo a 23 contro 1, no? Cioè i numeri dicono questo, però... Esatto, esatto. E poi soprattutto siamo a 23 contro 0 degli altri partiti, nessun altro parlamentare di altri partiti ha mai restituito nulla. Sì, esatto. E ti dico però qual è il problema. Il problema è che chi si candida adesso nei 5 Stelle come te o chi dirige questa campagna elettorale come Luigi Di Maio si trova un po', non perché c'è un'opinione pubblica maldisposta, ma si trova a fare i conti forse anche con la stessa impostazione di quello che era il Movimento 5 Stelle qualche anno fa. Cioè questa grandissima enfasi sulla totale, assoluta e, voglio dire, trasparenza ed onestà dei 5 Stelle rispetto agli altri, ha attirato in questo caso, è un paradosso, è un paradosso, proprio sul Movimento qualche fulmine. Cioè è come la storia di Uccelli di Rovo, no? Del sacerdote. No, no, ma io quello che ho detto non toglie che sicuramente dal punto di vista etico-morale quello che è avvenuto è da biasimare, perché queste persone potevano probabilmente dire di essere in difficoltà e diciamo così annunciare questo fatto che non potevano più procedere, non volevano più procedere a queste donazioni volontarie. Quindi l'aspetto morale in sé resta per un Movimento come i 5 Stelle che ha fatto anche dell'aspetto morale, oltre che del programma e di tutto il resto, anche un punto fondamentale. Quindi da questo punto di vista, diciamo, nessuno mette in dubbio questo. Certo, ieri l'ha detto anche da noi qui, Carla Ruocco, ieri pomeriggio, l'abbiamo anche dato alle agenzie, è una frase molto forte, ha detto la Ruocco che è una tua collega in questa campagna elettorale e io l'ho chiamata perché spesso lei nei momenti delicati è intervenuta e ha sempre detto quello che pensa. Tra noi, visto che tu sei stato a Canale 5, diciamo agli inizi, fin dagli inizi, è un po' come la storia di Uccelli di Ruoco, no? Quello si era un po' invaghito della ragazza, però era un prete dal punto di vista morale. Poi se ci pensi anche un uomo non era così grave. Oggi non ci sarebbe quello scandalo. Allora fece scalpore, ti ricordi, no? Ma forse ci sarebbe ancora anche oggi. Però fu anche l'opportunità, perché ti ho fatto questo esempio, l'hai detto te, uno scandalo creò l'opportunità in quel momento a Canale 5 di battere gli ascolti, tutti i record di ascolti. È un po' quello che... Come questo scandalo, penso, abbia un po' fatto conoscere agli italiani un aspetto che magari non veniva mai comunicato neanche dai media, dalla stampa, e cioè questo fatto che il Movimento 5 Stelle comunque in tutti questi anni ha fatto queste donazioni volontarie, che comunque sono andate a buon fino attraverso il Ministero dell'Economia. Certo. Ora ti voglio fare un po' di domande. Ci sono due aspetti, naturalmente, che voglio affrontare con te. La politica del Movimento 5 Stelle, questo tuo impegno, e poi anche il tuo impegno personale. Partirei proprio da quest'ultimo, perché quando ho saputo della candidatura, io e molti altri colleghi siamo rimasti sorpresi, non avevamo seguito negli ultimi mesi, abbiamo detto, ah, Emilio, ma com'è? Come mai si... Prima di tutto il fatto di candidarsi, eh? Io, per esempio, non l'ho mai voluto, e nemmeno, per esempio, il direttore TG5 o altri, a cui è stato pure offerto, però tu invece hai detto sì, ti hai deciso di candidarti, e poi discutiamo del perché con i 5 Stelle. Ma la prima cosa che mi ha colpito è la candidatura. Io penso che arrivati a un certo punto della propria vita, e quando si hanno raggiunto anche degli obiettivi soddisfacenti dal punto di vista professionale, come penso di averli raggiunti io, diciamo subentra un po' quel senso di chiedersi com'è possibile restituire qualcosa a questa società, a questo mondo che ci ha dato tanto. È un po' il concetto anglosassone del give back, no? Che hanno molti, in America soprattutto, arrivati a un certo punto ci si chiede, ma come posso io dare qualcosa al Paese che mi ha dato tanto, che mi ha permesso di fare un bellissimo cammino, percorso professionale. Allora ho pensato che la politica poteva essere uno di questi sbocchi. Già l'avevo fatto qualche anno fa, in un'altra situazione, sono tuttora presidente di una ONLUS, la Fondazione Ghirotti, che si occupa di malati terminali di cancro, questo l'ho fatto per molti anni, spero di poterlo portare avanti, a livello anche nazionale, però non mi bastava. Ed ecco perché anche l'aspirazione politica, soprattutto in considerazione di, come abbiamo visto, quello che sta succedendo in Italia ormai da molti anni, cioè partiti politici ormai vecchi, ormai consunti, ormai popolati dagli stessi personaggi che si scambiano le poltrone tra loro, che però hanno fatto tante promesse, ma purtroppo non ne hanno mai mantenute. E allora vediamo anche adesso i loro programmi, ripropongono promesse fatte nel 94, nel 2001 o in altri anni di questo ultimo periodo. E allora mi sono detto, chi può in qualche modo cambiare le cose in Italia? Io ho due figli, hanno nove anni, e penso anche questo, che una volta ascoltavo Tim Cook, che è l'amministratore delegato di Apple, e mi disse una frase, mentre parlavo con lui, mi disse, noi abbiamo l'obbligo di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Ecco, diciamo, questo è stato un po' il motore della mia scelta politica. Il fatto poi di aver scelto il Movimento 5 Stelle è stato un fatto, diciamo così, naturale. Perché? Perché io nell'ultimo anno, anno e mezzo, per motivi professionali, lavorando a Sky, mi ero occupato, mi sono occupato, ma mi sto ancora occupando in questi mesi. Adesso ho sospeso il contratto durante la campagna elettorale, ma fino a dicembre lo ero ancora, mi stavo occupando di rapporti istituzionali proprio col Movimento 5 Stelle. E questo mi ha permesso di avvicinarmi alle persone, alle persone che ho incontrato, alle persone dei vertici, ma anche alla base. Sono stato a loro diverse manifestazioni, ho organizzato incontri, naturalmente, con loro. E piano piano è nato un rapporto di stima reciproca, di fiducia. E piano piano ho cercato di approfondire quelli che sono i loro valori. I valori dell'onestà intellettuale, dell'onestà etica, i valori del distacco dalla politica, della lontananza dai privilegi di una certa politica. I valori di un rilancio dell'economia legato alla giustizia sociale, in modo che tutti, anche gli emarginati, abbiano una possibilità di vivere sopra la soglia di povertà. Da qui la proposta del reddito di cittadinanza. Tutti i valori che ho visto tradotti nelle persone. E allora a questo punto, poi a gennaio, quando mi è stata offerta la candidatura, ho trovato uno sbocco naturale, questa candidatura. Naturalmente adesso... Esauriente. Sì, esauriente, molto chiaro. Però, naturalmente, adesso dobbiamo parlare di politica, perché una volta presa questa decisione, tu ti ritrovi col Movimento 5 Stelle in totale solidarietà, anche ad affrontare tutte le critiche e tutte le difficoltà che vengono proposte dagli avversari. Per esempio, Renzi sta dicendo... Beh, sta dando un sacco di bastonate al Movimento 5 Stelle. Cioè, Renzi dice incompetenti, anche su quest'ultima vicenda dice sì, ci raccontano delle balle, ma anche altre volte l'hanno fatto. Questo è questo, diciamo, è Renzi. L'altro ieri, Grasso, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, mi ha detto qui in un'intervista, ma io l'ho trovato confusi, perché dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, stanno cercando di assumere una mentalità di governo, un'immagine di governo, e per questo contraddicono alcune cose che avevano detto e lo fanno dall'oggi al domani. Ti sottopongo, prima di tutto, questo giudizio che ti arriva da sinistra, se vuoi, ma comunque da Renzi e dall'estrema sinistra. Allora, io penso che il Movimento, da quando è nato, ormai più di dieci anni fa, ha subito un'evoluzione, un momento di grande crescita in tutti questi anni. Adesso è un movimento che, secondo i sondaggi, sarebbe la prima forza politica italiana come risultato elettorale. Allora, io penso che sia naturale in un movimento di questo genere, ma come in tutti i movimenti della storia, dalla Rivoluzione Francese, ai tribuni della plebe a Roma, a tutti quelli che sono stati poi grandi cambiamenti nella storia, sono sempre stati caratterizzati da un primo momento di grande rottura. Di grande rottura con anche momenti, come l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, anche abbastanza violenti verbalmente. Ricordiamoci il periodo del Waffa. E quello però serviva per, diciamo così, rompere con le vecchie situazioni. Poi però nel momento in cui il Movimento 5 Stelle desidera, si propone come forza di governo, è naturale che subisca una normale evoluzione, che sicuramente non deve mai abdicare o rinunciare ai valori iniziali, che sono la spinta, il motore del movimento. Però deve anche comunque capire, all'interno dell'istituzione, come muoversi. Quindi io penso che questo sia un segno di maturità. Come è stato un segno di maturità, usare, diciamo così, il termine di inclusione, che è un termine in questo momento molto forte nel Movimento, cioè includere dentro il Movimento, unire a quelli che sono, diciamo così, gli esponenti storici di questo Movimento, anche tutta una serie di competenze e di esperienze da parte della società civile, che sicuramente possono dare un loro apporto, aderendo naturalmente ai principi del Movimento, dare un apporto per farlo crescere e per farlo diventare forza di governo. Io dico che questa è la migliore risposta alle critiche che ci vengono lanciate, soprattutto in questi giorni, soprattutto da Matteo Renzi, che addirittura ho sentito arrivare a paragonare Di Maio a Bettino Craxi. Io penso che questo sia un paragone inaccertabile sia per chi ha conosciuto Craxi, sia per chi ha conosciuto Luigi Di Maio, che tra l'altro a volte viene accusato di incompetenza, ma io devo dire che lo conosco e lo frequento da oltre un anno e ho partecipato con lui a molti incontri e riunioni e devo dire che in ogni momento è stato sempre all'altezza della situazione, ha un grande desiderio di apprendere, di imparare, ma ha maturato nel frattempo grandi competenze, sia politiche che organizzative che gestionali e il giro che sta facendo per l'Italia, ormai prima durante la campagna elettorale in Sicilia e adesso durante questa campagna elettorale nazionale, dimostra anche il suo desiderio, che poi è quello del concetto di politica dei 5 Stelle, di fare politica in mezzo alla gente, di capire quali sono i bisogni primari della gente, di portarli a Roma, al centro della scena politica, di affrontarli e di risolverli. Sì, con quel giudizio che hai citato te, però Renzi dimostra soprattutto di non aver conosciuto, e questo è un fatto anagrafico, ma nemmeno un po' essersi ben informato su Craxi, perché su Di Maio può dire come vuole, ma comunque questo giudizio su Craxi è molto leggero, forse Renzi nemmeno si ricorda che c'è stata Sigonella, quello che è successo, che c'era il governo Craxi, non sa di cosa parliamo, e allora va bene, non ne parliamo. Penso che lui alludesse più al discorso delle tangenti, più che al discorso di Sigonella. ma sulle tangenti, sulle tangenti, sai, come hai detto adesso per i rimborsi, sulle tangenti, ma tu lo sai come me, infatti non ti ho mai sentito esagerare. Certo, l'abbiamo vissuto assieme quel periodo, l'abbiamo vissuto assieme e ce lo ricordiamo molto bene. Ce lo ricordiamo, il polverone si deposita, e questo è quello che spera, voglio dire, lo stesso Renzi, anche sulle questioni delle banche, il polverone si deposita alla fine, e ne escono fuori quelle 3, 4, 5, 6 o 10 azioni, che al governo, chi è stato al governo, ha fatto o non ha fatto. E questo vale anche per voi, che un giorno poi potreste governare, cioè chiaro che tutti quelli che fanno politica vorrebbero, però ti sottopongo anche altri giudizi, perché anche, hai già risposto a questo, però lo puoi ripetere, anche Berlusconi per esempio ha criticato molto i 5 Stelle, dicendo non hanno mai lavorato, non sanno di che si tratta, tutto ha sentito rispondere in televisione, ma guardate che però l'80% dei 5 Stelle del movimento sono laureati, ma credo che non sia solo questa la risposta, No, non è solo questa, l'ho già detto, abbiamo fatto un paragone, tra l'altro anche l'80% dei parlamentari di Forza Italia sono laureati, e nel PD la cifra è leggermente, la percentuale è leggermente più alta, ma al di là del fatto della laurea, che comunque è un fatto importante, ma non è solo determinante ed esclusivo, ci sono fiori di professionisti non laureati, io penso che, l'ho detto per la mia esperienza di questi mesi, di quest'ultimo anno e mezzo, la mia esperienza ha fatto sì che sono entrato in contatto, come dicevo prima, con molti esponenti del movimento, e ho incontrato spessissimo professionisti, imprenditori, impiegati, docenti, docenti universitari, insegnanti di scuole medie, insegnanti elementari, gente che ha un negozio, gente che ha un'attività economica, gente che anche fa un lavoro normalissimo, ecco, operai e impiegati. Questo per dire che la formazione sociale del Movimento 5 Stelle, della base, è veramente eterogenea, ed è quasi trasversale, comprende un po' tutte le categorie. Io sto facendo una campagna elettorale molto in mezzo alla gente, diciamo prima, sono candidato nell'Unionominale alla Camera, nel collegio di Roma 9, che comprende tra l'altro anche Ostia, tutto l'entroterra tra Ostia e Roma, e la città di Fiumicino, e ogni giorno quotidianamente incontro le persone, sia attraverso banchetti per la strada, sia attraverso riunioni che vengono organizzate sul posto con i cittadini. E vi devo dire che in questi incontri, in queste riunioni, parlo con le persone, chiedo, ma tu cosa fai, che lavoro fai, che lavoro svolgli? Ecco, io trovo persone molto competenti, anzi persone competenti, che sono stanche di un modo di fare politica, e vogliono partecipare, oltre al loro lavoro, vogliono dire la loro, vogliono fare proposte, vogliono denunciare situazioni di degrado, situazioni di mala sanità, oppure di cattiva gestione del territorio, o di cattiva gestione anche commerciale e economica di una certa zona, di dissesto idrogeologico come c'è a Ostia, per esempio in tutta l'entroterra di Ostia, ecco, persone che affrontano i problemi, e lo fanno con grande competenza, avvalendosi a volte anche di esperti. E ho partecipato a molte riunioni di questo tipo, ho partecipato recentemente a un bellissimo incontro con 17 comitati di quartiere dell'entroterra di Ostia, alla quale partecipavano anche ingegneri espertissimi di questo argomento per il dissesto idrogeologico, e ho scoperto che c'è tutta una zona edificata negli anni 60 e 70, senza tenere conto di quello che era il terreno, che adesso ogni volta che piove ci sono allagamenti a cantini, a giardini, a locali vari, ed è diventato un incubo. E la soluzione di questo problema è molto complessa, però ho visto il modo con cui è stato affrontato, un modo molto competente. Hai risposto da gran signore su questi temi senza calcare la mano, né su Renzi troppo e neppure su Berlusconi, sul quale ho sentito che hai comunque dei giudizi, beh, naturalmente misurati dal fatto che conosci le persone, che hai lavorato anche con Berlusconi tanti anni e con tanta gente che lo circonda, quindi dai un giudizio politico sulle cose, dici le tue cose, ma non ti ho mai sentito finora, ma anche ora nelle risposte lo vorrei far notare, stai facendo una cosa da gran signore, diciamo, della politica. Ma io ti ringrazio, ti dico quello che penso. No, dici quello che pensi, ma il tono che usi è un tono, comunque a me fa impressione, perché sai che quando nomini poi gli avversari, lo sai, nella campagna elettorale, nella politica, si accende una miccia sempre, dice, ah Renzi ha detto di noi questo, allora pensassi ai fatti suoi, oppure Berlusconi, per carità, te ti tieni su una misura, però adesso entro in alcuni temi che sono forti, caldi, io giro meno di te, però per esempio il tema della immigrazione in Italia è sentitissimo, lo dico, io lo so perché ci scrivono, seguiamo, facciamo, ma poi l'ha detto anche Di Maio, io vorrei sapere bene da te, che spieghi le cose con un filo molto logico, quanto è sentito dai tuoi elettori che senti, che ascolti, e quanto pensi che debba fare, e in che direzione è il Movimento 5 Stelle? Allora, sono d'accordissimo, perché anche secondo i dati che abbiamo noi, il tema dell'immigrazione è praticamente al secondo posto, dopo il problema del lavoro e della disoccupazione per gli italiani, adesso la sicurezza sta prendendo anche il sopravvento, però diciamo che sono questi tra i temi più sentiti dagli italiani in questo momento, il Movimento 5 Stelle ha messo uno dei punti del programma dedicato proprio al tema dell'immigrazione, e l'ha messo tra i punti più importanti dei 20 punti di programma per migliorare la qualità di vita degli italiani, secondo noi l'immigrazione è un tema importantissimo che va affrontato con grande urgenza, e quello che il Movimento 5 Stelle pensa è che innanzitutto bisogna abolire il business delle cooperative che accolgono gli immigrati, perché queste cosa fanno? Invece di favorire le pratiche per il riconoscimento, l'identificazione e poi la diffusione degli immigrati in tutti gli altri stati europei, essendo un vantaggio per loro trattenerli, le tengono per 10, 15, 20 mesi, e questo sta creando tutti i problemi sociali che noi conosciamo. Il Movimento 5 Stelle è per l'accoglienza, questo è un concetto importantissimo, ma anche per la corresponsabilizzazione di tutti gli altri paesi europei, quindi per la distribuzione immediata degli immigrati clandestini che arrivano in Italia, che sbarcano sulle nostre coste, nel giro di qualche settimana, effettuata l'identificazione e verificato che abbiano diritto allo status di immigrato politico, quindi la possibilità di rifugiato, di destinarli immediatamente agli altri paesi europei. Qui però sorge il primo problema, come voi sapete, perché il regolamento di Dublino, che pur è stato cambiato recentemente, non permette ancora questa rapidità di ricollocazione degli immigrati negli altri stati europei. E allora cosa succede? Che alcuni stati, noi lo sappiamo, molti dell'est europeo addirittura si sono rifiutati e continuano a rifiutarsi di ricevere quote di immigrati sul loro territorio. Ecco, io penso che una delle cose che noi chiederemo sarà la sospensione immediata dei contributi dei fondi europei a queste nazioni che si rifiutano come sanzione, che si rifiutano di accogliere gli immigrati e di condividere con l'Italia tutte le problematiche sociali, economiche e anche culturali dell'accoglienza. Fermo però, deve restare fermo il concetto che l'Europa, grande continente, patria di culla di civiltà, da quella greca a quella romana, al Rinascimento, a tutto quello che noi sappiamo, non può rifiutarsi di sostenere il concetto di accoglienza nei casi in cui questi abbiano i requisiti per essere rifugiati politici. Un altro punto importante e qualificante sull'immigrazione, il Movimento 5 Stelle propone anche attraverso la cooperazione internazionale di andare nei paesi di partenza di questi immigrati e creare lì sul posto delle condizioni, attraverso delle cooperative, delle piccole aziende agricole, eccetera, condizioni che permettano a chi vuole partire di restare lì, di sopravvivere, di vivere bene e di crearsi una loro piccola economia che impedisca questo grande flusso di partenze, quindi riduca di fatto il flusso dell'immigrazione. Certo, io ti voglio porre una questione più specifica perché è un tabù, è un tabù in Italia, nel linguaggio politico italiano. Allora, si dice chi ha diritto, chi non ha diritto, chi è profugo da una guerra, chi non è profugo da una guerra. Poi ci sono alcune cose che sono vietate, perché i migranti sono migranti, però non è così, non è così. Se i migranti sono nigeriani, poiché c'è una guerra interna, ma ci sarà sempre, c'è un problema di demografia, poi scopriamo che un anno fa il ministro Minniti aveva messo l'allarme sulla mafia nigeriana. Poi scopriamo che a Maceratta questo gruppo di nigeriani ha fatto cose probabilmente mostruose, oppure no, ma si sta indagando, e con grande naturalezza tutti scrivono eh ma sono riti tribali tipici. Ah, sono tipici? Benissimo. Ma se sono tipici, quelli sono migranti e li importeremo pure noi, no? Magari importeremo anche altre cose, ma diciamo, oppure, oppure, se noi sappiamo che arrivano dei migranti dal Marocco, dove non c'è nessuna guerra, dove c'è un'economia stabile, addirittura c'è uno sviluppo del turismo per certi versi relativamente superiore a quella nostra, oppure come è successo in Sardegna adesso, a Capoteulada, parlo di poche ore fa, diciamo dall'Algeria direttamente, e lì non è un paese in cui noi riconosciamo dei rischi di guerra, né guerra civile, eccetera. Oppure dalla Tunisia, dove la polizia tunisina ci dice attenzione perché da voi stanno venendo dei criminali che scappano da qui perché sono terroristi, anche in base alla nazionalità. Lì, secondo me, non ci sarebbe da fare tante discussioni. Io lo dico a te perché mi sembri di buonsenso. No, 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 chiaramente, quello che tu hai affermato sono frasi di buonsenso. Naturalmente, se un immigrato viene qui e si comporta da criminale o mette in atto gesti criminali, va punito e va respinto, come di solito si fa. Io penso però che se noi attuiamo questo piano di distribuzione europea degli immigrati, il problema si riduce di molto. E poi, quello che propone il Movimento 5 Stelle è anche un'integrazione culturale di chi poi, in qualche modo, deve fermarsi qui. Quindi, organizzare dei corsi di studio, dei corsi di cultura italiana, degli corsi professionali per dargli un lavoro, non tenerli concentrati in grandi quantità, 2-3 mila nello stesso posto, creando impatti sgradevoli con la popolazione. Ecco, ci sono tutta una serie di opportunità che possono essere messe in pratica e che sicuramente aiuterebbero a risolvere questo problema. Fermo restando il controllo della criminalità, su quello chiaramente non si discute. Certo, però il punto è che noi la criminalità la possiamo controllare dopo che i reati sono stati commessi. Però per certi paesi possiamo già saperlo, insomma. Quindi l'intelligence fatta prima sicuramente è importantissima. Sai che sul Telegraph il presidente della Nigeria ha fatto un'intervista in Inghilterra non accoglieteli quelli che vengono dal mio paese perché sono criminali che stanno scappando dal mio paese, sono la mafia nigeriana, eccetera. Le inglesi l'hanno pubblicata con la foto, l'ho visto l'altro giorno su internet. Però è arrivato anche sui giornali italiani queste cose. Io penso che sicuramente la nostra intelligence sarà informata. Io, ha capito, basterebbe poco. Dice sì, ma se delinquono poi li arrestiamo. Sì, ma alcuni vengono qui perché vogliono, non c'è altro motivo. Vabbè, comunque è una discussione che hai risposto le vostre cose. Io ti voglio chiamare su un altro tema che è quello della politica. Sai cosa si dice? Ma queste elezioni alla fine non vincerà nessuno. La legge è fatta così, non vincerà nessuno. Cosa succede dal tuo punto di vista, dal punto di vista dei 5 Stelle? Allora, questa è un po' la domanda che viene continuamente posta a tutti e che ci facciamo anche noi, che facciamo questa campagna elettorale, naturalmente. Perché se andiamo a vedere i sondaggi e lì colleghiamo a questa legge elettorale che è stata recentemente approvata, il Rosatellum, è stata tra l'altro approvata per impedire che qualcuno vinca, a quanto pare. Perché se andiamo a vedere ci sono delle percentuali che non consentono in questo momento la formazione di una maggioranza di governo. Perché poi ricordiamoci che il governo quando va in Parlamento deve avere il voto di fiducia, quindi deve avere la maggioranza di deputati e senatori. In questo momento, secondo i sondaggi, questa maggioranza non c'è. Ma tutti, chiaramente, stiamo facendo una campagna elettorale forte e intensa per raggiungere questa maggioranza. Quindi l'obiettivo del Movimento 5 Stelle è sicuramente vincere le elezioni e i sondaggi ci danno in pole position da questo punto di vista come maggiore forza politica italiana. Se riuscissimo a raggiungere, a superare il 40%, sicuramente non avremo bisogno di altre forze politiche. Quello che pensiamo è comunque che innanzitutto bisognerà vedere i risultati elettorali, proprio i numeri esatti di questi risultati elettorali. Dopodiché, se saremo la prima forza politica, l'auspicio espresso dal nostro candidato premier Luigi Di Maio è di ricevere l'incarico per formare un nuovo governo, di andare in Parlamento, sentire gli altri gruppi politici parlamentari e trovare quei parlamentari, quei gruppi parlamentari che in qualche modo aderiscano a alcuni punti determinanti e fondamentali del nostro programma in modo che si possa formare il governo. Questo è l'obiettivo che portiamo avanti. Però, ripeto, nessuno ha una sfera di cristallo e in questo momento veramente è difficilissimo ipotizzare una soluzione. Si parla delle larghe intese per le quali noi siamo sicuramente contrari. C'è un governo fatto da PD e Forza Italia che, tra l'altro, ci risulta, non avrebbe neanche i numeri in base ai sondaggi di oggi. Sì, che però negano tutti. Però poi è chiaro. Però anche questo aspetto che Di Maio mi ha spiegato, come te, nell'intervista, di andare in Parlamento e chiedere lì su alcuni punti di formare il governo prevede un accordo. Prevede un accordo. Perché non è che gli puoi dettare i punti e tutti aderiscono a un governo fatto. Vorranno anche dei garanti della loro partecipazione. Questi garanti si chiamano ministri per la Costituzione. Allora, alla fine, diventa un governo condiviso. Se prende i voti... Ma è tutto da vedere. Se no, non prende i voti. A quanto sento all'interno del movimento, l'ipotesi non è questa. Ah, sì, l'ho sentita anch'io. Però, ripeto, nessuno può dire in questo momento quale sarà la soluzione. No, l'ipotesi del movimento l'ho sentita anch'io. Ed è, noi dettiamo i punti del programma, vi diciamo la composizione del governo, chi vuole aderisce. però questo, diciamo, lo facevano i sanniti quando facevano passare i romani. Beh, io e te che conosciamo la politica da tanti anni, sappiamo che i meccanismi poi sono ancora molto più sofisticati e complessi, però anche... Se non gli dai un ministro a ciascuno... Non possiamo prevedere adesso quello che succederà dopo. È vero, è vero. E io mi fermo con te. Voglio stare alla tua saggezza perché un po' c'ha comune, è il buonsenso che c'ha comune. E voglio appunto finire così, questa intervista, con questa cosa che Emilio... Insomma, adesso io poi non lo so se tutti quelli del Movimento 5 Stelle spiegherebbero gli stessi contenuti con lo stesso tono. Io ho avuto ospite Emilio Garelli, l'ha spiegato con questo tono. Io ho capito il suo punto di vista, spero che l'abbiate capito pure voi e lo ringrazio, e lo ringrazio e poi andremo avanti naturalmente con altri. Questo la chiamerò, questa rubrica, il liguorellum, sai che così praticamente darà la rappresentazione totale del pensiero di tutti. Non male. Che sul piano del governo non va bene, ma sul piano dell'informazione è doveroso, giusto? Sì. Giusto. No, no, no. Buona campagna elettorale a tutti. Grazie, anche a te Emilio. Ciao. Grazie. E era un ringraziamento a Carelli, naturalmente adesso lo sport e poi TG.com con l'approfondimento anche su quelle questioni di cui parlavamo, la Nigeria, la mafia nigeriana, Frontex, gli immigrati, vedrete.